Musica Ragazzi siamo ritornati qua con un nuovo mazzo tematico Oggi c'è stata la presentazione, siamo andati a vedere la presentazione E questo è il mazzo tematico, ce l'hanno fatto aprire lì per fare delle battaglie e delle sfide E niente, e qua vi volevo far vedere solamente cosa c'è all'interno Ogni mese ve lo facciamo vedere, questo mazzo tematico saranno due Con Mewtwo e un altro Pokémon che è questo qua Adesso ve lo dico subito che ce l'ho qua Un attimo solo che apro il deck per fare come sempre c'è dentro tutte le cose uguali agli altri Un codice e le varie cose Mewtwo e questo Pokémon qua Adesso non mi viene il nome perché sapete che non sono esperto molto Ve lo dico subito che è qua dietro Devo capire un attimo dove si trova Gioco di carte Vabbè, ve lo faccio vedere di questo Pokémon qua Di questo Pokémon qua che vedete qua E niente, avrete due Mewtwo e l'altro Pokémon Arriveranno dal 2 maggio del prossimo mese Per cui non perdete venite al prossimo mese In edicoli, nei migliori negozi di giocattoli o di carte E poi troverete all'interno questa e dell'altro Pokémon Spero che si veda Mewtwo Ok Poi Avete all'interno di Mewtwo Avete No, queste sono le carte che ho trovato Nelle bustine Perché ci hanno dato anche le bustine Questo qua Troverete dentro Bello, bellissimo perché sono belle le carte all'interno Questa volta li ho trovati un po' più sfortunate E' incapace questo mazzo qua questa volta E' difficile vincere con il mazzo di Mewtwo E troverete davanti la carta Mewtwo come al solito Queste qua sono All'interno, tra tutti, io E' oh, boh, non lo so Avrò avuto qualcosa così Un spritzio stamattina Ho trovato io questo Un altro l'ho trovata normale che brillucica solo Ma io l'ho trovata questa Una Yes Con Mucche Maku e Mucche Di Alola Per cui ho trovato questa All'interno poi troverete sempre i codici Che dovrete riscattare sul sito di Pokémon Per averlo nel gioco online E niente Qua non ho trovato niente Soltanto un Pokémon Mi sembra di... Mi ricordo, devo vedere bene Sì, soltanto questo Pokémon 4 L'ho trovato Lucario Che biberiologica Vedete, Lucario con lì Niente Anche per oggi Abbiamo fatto questo nel mese di maggio Arriveranno il 2 di maggio Nel mese di maggio Per cui io ve l'ho fatto un po' prima Perché ve l'ho voluto fare prima Vi consiglio di andare a prendere Se volete questo mazzo di carte Lo troverete dal 2 maggio E niente Qui è tutto Dal vostro allenatore E ci vediamo alla prossima Amici allenatori dei Pok Acchiappateli Tutti Ciao Lì Ciao 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 kelti Ciao ��로 Ciao Ciao